Dopo Ribera partono anche a Sciacca le attività ludico-ricreative e i centri estivi per bambini ed adolescenti che potranno dunque tornare a vivere momenti di svago e di socialità. A darne notizia il sindaco Francesca Valenti, dopo che il Dipartimento della Famiglia della Regione Siciliana ha comunicato ieri che sono nella disponibilità del Comune di Sciacca quasi 110 mila euro per l'avvio e la realizzazione di tali attività. Gli enti, le associazioni, le cooperative e i soggetti a qualsiasi titolo costituiti che intendono avviare attività in favore di bambini ed adolescenti della città per il periodo estivo potranno presentare istanza con relativo progetto attenendosi alle disposizioni contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio scorso e dell'ordinanza della Regione Siciliana numero 25 del 13 giugno. Gli enti dovranno autocertificare, in quanto organizzatori e gestori delle attività, il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie previste. Oltre che presso gli spazi privati o comunque nella disponibilità dei soggetti organizzatori, le attività ludico-ricreative potranno svolgersi anche presso luoghi pubblici che dovranno essere esplicitamente richiesti dagli organizzatori. Grazie. 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 Grazie.